Evo Max con Sweet Bat Psycho nella mattinata di Radio Kiss Kiss, fuori tutto, ospite d'eccezione e qui con me Irama, buongiorno Ciao, buongiorno Come stai? Bene, bene, tu? Bene, bene, molto bene, ma come stai aveva un senso, cioè come stai di domenica mattina alle 11? Avevo a pezzi completamente, no? Infatti sto ancora realizzando dove sono, capendo Sei qua, sei negli studi di Radio Kiss Kiss, no perché se io dovessi immaginare un ragazzo di 23 anni la domenica mattina, ecco non lo immagino A letto A letto, a dormire Sì, la domenica mattina diciamo che forse è l'unico giorno dove puoi riposarti un po' E tu lo fai? No No, in verità no Cosa fai? In questo periodo, devo dirti la verità, sono molto molto in giro, cioè non c'è un giorno dove stacco completamente Infatti tendo ad andare a dormire molto tardi e svegliarmi molto presto, sto dormendo molto poco in generale, tipo un'ora Tormo quando posso, tipo sull'aereo, io ho il terrore dell'aereo, devi sapere Davvero hai paura di volare? Ma sono sempre talmente tanto stanco che riesco a dormire, mi sveglio soltanto tipo all'atterraggio Col fiatone perché sto per morire, penso che sia caduto tutto No, quindi ragazzo gufo, ragazzo all'odola, ragazzo assolutamente gufo Sì più gufo, però un po' anche all'odola, non per colpa mia Beh certo, per circostanza, anche perché tu arrivi da un periodo pazzesco, forse proprio da un anno pazzesco La vittoria di Amici, poi il palco di Sanremo, ma sei soddisfatto dell'esperienza sanremese? Sì, nel senso la canzone sta piacendo molto, sono contento, il disco è andato bene, la canzone anche Quindi in verità per quanto riguarda la musica sono molto felice Poi penso che comunque siano tutte esperienze che faranno parte di un bagaglio che mi porterò dentro E quindi sicuramente devo trarne qualcosa di positivo Ma certo, allora descrivimi, io voglio andare un po' più sul personale, noi oggi dobbiamo scoprire assolutamente chi è Filippo Maria Vai Un ragazzo di 23 anni 23 anni E qual è il tuo giorno perfetto? Descrivimi il tuo giorno perfetto, come comincio? Ah, sono rompiscatole io, non so dirti il giorno perfetto, però diciamo che quando mi sento veramente bene, quando sono in studio, in registrazione sto bene È una realtà che mi è molto vicina, la notte quando scrivo Per esempio c'è questa cosa che scrivo sempre negli spazi angusti, non so perché Tipo? Nei posti più brutti possibili Perché succede che in pratica, mi ricordo una mattina ero in Sardegna E c'era una vista pazzesca E una mattina mi sveglio e dico, adesso vado in spiaggia e mi metto a scrivere una canzone Ma quando qualcosa è troppo bello, mi fermo a guardarlo e non sono riuscito neanche a scrivere una parola E mi sono accorto che tendenzialmente tendo più a scrivere in posti dove non c'è nulla Ah, dove non ci sono poi fonti di ispirazione che poi un po' ti distraggono Esatto, perché quelle cose alla fine le vivi Poi quando sei invece nel nulla, forse più totale, nel posto più marcio possibile Allora lì ti rifuori tutto quello che hai sentito, tutto quello che hai visto Un po' ti nutri dell'ispirazione, dei posti belli e poi ti chiudi e scrivi Ma tu te lo ricordi? Quando è che hai scritto per la prima volta qualcosa o un vero e proprio pezzo per intero? Sì, avevo sette anni e ho trovato un quaderno, tipo un quaderno delle elementari da bambino Però era tutto stracciato, cioè perché già rompevo le scatole E avevo scritto una canzone, avevo iniziato a scrivere perché sono cresciuto tanto con i cantatori E li ho sempre amati talmente tanto che forse in quel momento volevo mularli, volevo... Ah, sette anni è tanta roba, eh, voglio dire No, mi piaceva tanto, ho sempre... questo mondo della musica mi è sempre rimasto proprio sulla pelle, tanto addosso Ma fin da piccolino mi ricordo dalla cosa più semplice come suonare il flauto Sono sempre stato, diciamo, predisposto a fare musica, sempre voluto fare quello peraltro Per sette anni eri anche abbastanza piccolo Allora, io vorrei che questo me lo annunciassi tu, il pezzo che ti abbiamo visto cantare al Festival di Sanremo Allora, la musica più bella suona sempre su Radio Kiss Kiss, io sono Irama e questa è La ragazza con il cuore di latta E vai! Oh yeah! La ragazza con il cuore di latta su Radio Kiss Kiss, Irama, ospite di Fuori Tutto, con me che sono Adriana Petro Questa canzone ha un messaggio positivo, di speranza Tu nella vita sei tendenzialmente ottimista o pessimista? Aia! Domanda di riserva non ce l'ho Allora, no, tendo a vedere il bicchiere mezzo vuoto, io non devo dire la verità Però diciamo che nella musica cerco sempre uno sfogo di luce, un momento positivo Questa canzone per esempio c'è questo spazio quando ho scritto la terza strofa che in teoria è lo special Dove c'è un inno alla vita che viene un po' raccontato con questa esplosione da scerita che è la solista gospel Quindi diciamo che forse tendo ad essere negativo perché tendo a forse a cogliere spesso molto la verità di quello che vivo Non è una favola la vita, no? Un po' anche esorcizzare, no? Magari le tue paure, no? Può essere che questa negatività o questo modo di vedere il bicchiere mezzo vuoto ti sia stato inculcato da piccolo? Cioè, che educazione hai ricevuto? Che educazione? Sì No, un'educazione sana, sono io che impazzivo da piccolo Che rapporto hai con i tuoi genitori oggi e anche ieri? Di stima, sono persone con tanta cultura che mi hanno dato tanto e spero un giorno sicuramente di imparare e diventare come loro da quel punto di vista Quindi ho tanta stima per le persone che mi hanno cresciuto in generale, della mia famiglia, mi hanno insegnato molto Devo dire che probabilmente oggi tante cose le devo a loro perché ero un po' uno scappato di casa quando ero piccolo Quindi molte cose in verità le ho imparate grazie a loro, grazie anche a mia nonna Mi ricordo che era una professoressa di letteratura che mi raccontava le cose come se fossero storielle, quindi senza aprire i libri Quindi ti bacchettava anche a scuola se qualcosa non andava bene? No, per niente, ero un angelo, in verità per niente Ma chi va più fiero di te adesso? C'è sempre un componente della famiglia che fa maggiormente il tifo per noi Ma in verità è molto, devo dire, da questo punto di vista è molto unita la mia famiglia Siamo tutti, nel senso, ci sosteniamo molto Sono i tuoi fan numero uno, no? Sì, devo dire, quando ero piccolo, molte volte, e mi succede tuttora, prima di far uscire una canzone la faccio sentire a mia sorella Che è più grande? Poco più grande, più o meno la metà, 3-4 anni più di me, però più o meno siamo coitane, no, ormai? E mi è sempre successo, sì, di farle sentire prima lei le canzoni e mi ha sempre dato pareri un essi E ti sei fidato o hai fatto poi di testa tua? No, mi fido molto, mi fido molto A chi devi dire grazie? Cioè c'è qualcuno a cui sei particolarmente grato? Famiglia e non? A Giulio Nenna, che è il mio musicista E poi vabbè anche tutto il mio team Magari ti sprona anche, ti fa anche un po' da motivatore? A vicenda, diciamo Ci siamo sempre sostenuti, ne abbiamo viste di, si dice di cotte e di crude, no? Ne abbiamo viste veramente le cose peggiori, le cose migliori Anche se non siamo, non avevamo una carriera di anni e anni Però diciamo, da quando abbiamo iniziato ne abbiamo viste veramente passate tante E insieme siamo sempre riusciti a tirarci fuori Io parlo di livello artistico, livello musicale Perché poi c'è anche Lorenzo Galli, Andrea De Bernardi, c'è Rombo, c'è il Menaggio Ti ho fatto entrare in un tripo per cui adesso devi elencarli praticamente tutti Esatto, se no sono una brutta persona, domani mi chiama È una brava persona, un bravo ragazzo Giuseppe Colonnelli Vi garantisco che poi in privato mi li darà tutti i nomi delle persone che deve ringraziare Tante sono importanti Tu hai parlato di verità Perché continuamente c'è questa parola in te, nelle tue produzioni, nelle tue canzoni Hai solo 23 anni, però a me sembra di star parlando con un ragazzo molto più grande Cosa cerchi? Ma la verità penso che sia qualcosa che esiste nella vita, nella musica secondo me deve esserci Nel momento in cui manca la verità è come se fosse un castello di carte che crolla, secondo me diventa una cosa artefatta Certo non è facile, è un bel labirinto la ricerca della verità, magari ci si arriva anche un po' più in là con gli anni Tu ci sei arrivato un po' prima Io l'ho sempre trovata più difficile forse nella vita, ci capita a tutti di raccontare anche bugie bianche Invece nella musica non si scappa, cioè spesso mi trovo a raccontare talmente tanto la verità Che persone che ho di fianco ci rimangono male, da quanto sono sincero, però è inevitabile Magari lì riesci a consegnare la verità, magari non l'avresti fatto diversamente Completamente, sì, è una musica Allora, resta qui accanto a me, noi andiamo avanti anche con la musica, quella di Radio Kiss Kiss in questa bella domenica mattina con Irama Arriva Burak Yeter insieme a Cecilia Kroll, questa è My Life is Going On La mattinata di Radio Kiss Kiss ma soprattutto il confessionale di Radio Kiss Kiss fuori tutto con Irama Eccolo qua qui accanto a me, un po' assonnato perché domenica mattina si è svegliato e è venuto qua Hai fatto colazione? No, non lo faccio mai, non ho tempo, sono in ritardo, ho preso un aereo tipo in 30 secondi volando, non so come sia possibile Quindi sei praticamente a digiuno? Sì La mattina non mangi, non fai colazione? No Ma ti alleni? Tu hai un bel fisico, è fuori discussione, non è un apprezzamento diciamo personale però è così In verità no, non mi alleno quasi mai perché Non hai tempo? No, in questo periodo meno, un po' quando sono negli hotel un pochettino però prima o poi tornerò a allenarmi, mi piace molto la box a me La box? Sì, tanto Non la pratichi dopo? Un po', un po' sì E' anche una bella valvola di sfogo no? Prendere a cazzotti immaginando Ecco, chi vorresti prendere a cazzotti? C'è qualcuno? Magari non mi fai, non mi dici il nome Però c'è qualcuno che vorresti fosse al posto del sacco? La verità Ti sto pensando, no a cazzotti no A parole sicuramente sì, però no a cazzotti persone per adesso no E' una persona che hai adesso ancora nella vita oppure te la sei lasciata dietro? Non ti moro? No, no, non sono persone di vita privata Mi circondo sempre da persone che mi vogliono bene e oneste Ti dico la verità, è difficile che ci siano persone che non mi vanno bene intorno Senti, tu nel singolo Mi drogherò hai parlato e hai raccontato la dipendenza d'amore Dire dipendenza d'amore significa dire ossessione, qualcosa che ha un'accezione un po' negativa È così oppure no? Tu sei tendenzialmente uno che è soggetto alla dipendenza d'amore? No, tendenzialmente no, però nella canzone Mi drogherò cerco un po' di analizzare anche ironizzando su questo gioco Mi drogherò I lati positivi e negativi dell'amore Come in tutto ci sono cose positive che ti fanno stare al settimo cielo E cose negative che magari ti allontanano da altri contesti o ti staccano troppo Un po' come appunto le droghe Nel senso è un po' il paragone chiaramente appunto portato all'estremo per ironizzarlo Ne vuoi sempre di più, quello più o meno il senso? Sì, ci sono quello, ti porta lontano dalle persone care, cioè ci sono tanti paragoni Infatti sono paradossalmente tanti giochi dentro, tanti 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 Sei innamorato? Ma sempre sono innamorato, della musica No sì, sono anche innamorato Sei innamorato? Risposta secca Sì È innamorato Non vi lascio così, ma vi lascio con un pezzo perché dopo ritorneremo su questa cosa qua Se sono ancora viva, mi vuole dare a cazzotti adesso Questa canzone è molto bella, anche il titolo abbastanza sui generis Me la vuoi annunciare tu? La prossima canzone è Bella e rovinata Irama, questa è Radio Kiss Kiss Che pezzone la domenica mattina su Radio Kiss Kiss Giant, Calvin Harris e Reggable Man Ti piace ballare, ti piace andare in discoteca? Sì, a volte sì, più da pub sono, però a volte mi piace anche la discoteca Lo mangi il panino o lo fotografi soltanto? No, io zero fotografie Non sono neanche bravo con i social paradossalmente So che sembra strano, ma pensa che prima di... ci ho messo un sacco a aprire i social network Aspetta un attimo, allora non è bravo con i social Ho qui il suo profilo, Irama Plum Un milione e mezzo di fan Allora, il giorno di San Valentino Hai pubblicato la foto che ti è balza 511.276 like E qualcosa come 6.000 commenti L'amore piace Allora, hai ufficializzato? Avete, diciamo, fatto pace da questo punto di vista? Cioè, avete deciso di darvi in pasto anche al gossip? No, no, quello mai No, ho fatto un gesto carino, in verità Siete belli in questa foto Grande, grazie, l'ho fatta a Lori Eravamo... Dove eravate? In delle terme Dai, sì, mi sembrava un gesto carino Ho detto... perché no? Ha fatto impazzire la rete, lo sai, no? Sì, sono contento, dai È bello, nel senso, raccontare ogni tanto un poco di più Poi, chiaramente, io, per esempio, uso molto i social per parlare della mia musica, no? Quindi, di ciò che amo, ciò che faccio Questo fa parte di te e anche del tuo personaggio Sì, ogni tanto ci sta Ogni tanto dare anche un po' No, fa parte di me, non del mio personaggio Che poi anche il personaggio non esiste Perché sono io, proprio Sono io in tutto e per tutto, nel canzone, in tutto Quindi, no, volevo raccontare qualche cosina in più Volevo fare un gesto, in verità, anche carino In verità, sei andato a far poi la contarella dei like Dei commenti Li leggi i commenti? Sì, do un'occhiata, leggerli tutti è impossibile È impossibile Però, nel senso, do un'occhiata Però no, io sono veramente lontano dalla realtà social Però sei molto seguito E hai una fan base che ti sostiene sempre Ragazzi e ragazze che vengono ai tuoi in store E fanno file di ore Semplicemente per sfiorarti qualche istante Per una piccola foto rubata Quello è bello Quello è bello perché il fatto di essere seguito Mi fa tanto piacere perché vuol dire che non voglio ascoltare le mie canzoni Per me questa è la cosa più bella Hanno voglia di te Anche di quel pezzettino che è il gossip Che è l'amore, chiamatelo come vi pare Però è così Allora, fuori tutto con Irama qui con me Adesso ascoltiamo insieme un'altra canzone Ti spiace se la definisco tormentone? No, dai, ci siamo divertiti quest'estate Allora vai con Nera Irama Uno dei pezzi più ballati dell'estate scorsa Più suonati Irama con Nera E io ho la fortuna di averlo qua di fianco a me In Fuori Tutto La puntata speciale della domenica mattina Ben ritrovato Grazie, grazie mille Gli orecchini di piuma non li abbandoni mai No, no È vero? No Sei molto stiloso anche sul palco del Festival di Sanremo Mi piaceva Tra le altre cose, sì Si notava molto questo abbigliamento comunque curato Hai un personal stylist o scegli da te? No Sicuramente collaboro anche con stylist Bravissimi, sono contento E scelgo anche molto io Perché comunque mi piace un po' da sempre Sul palco c'era Etro che mi vestiva No, sono contento perché è una cosa per esempio Che fin da bambino Fin da piccolino volevo vestirla Mi ricordo che raccontavo a mio padre ridendo Un giorno mi farò vestire da Etro E poi è arrivato Infatti l'altro giorno mio padre me l'ha ricordato Brava Bastardo Non si può dire bastardo Vai tranquillo Ma è vero che hai una collezione di più di 40 orecchini di piume? Ma che 40? No, 40 Saranno 2 milioni No, quanti? Me l'hanno scritto ragazzi Come ho fatto a contarli? Non ho mai contato neanche io No, saranno migliaia 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 Pensi di abbandonarli mai per strada? Oppure al momento sei ancora convinto di questa scelta? Perché è un tratto assolutamente che ti distingue Ma sai È un simbolo veramente di identità È una cosa che non ci faccio neanche caso Ormai è sempre così sopra, sotto il palco, ovunque Quindi è una mia cosa Poi penso che con me nella musica Ci si possa continuare a devolvere, a cambiare Ci sia un cambiamento costante Quindi magari ci sarà anche un cambiamento della mia persona Non lo so adesso Ma li togli quando dormi? Dipende con chi sono Ah ok Se diciamo sono comodi oppure no Allora Se ti conosco bene Magari li tolgo Se no no Ok, ok È una cosa strana Sì, è una cosa strana With Newstone Canzone bellissima Ci siamo anche emozionati Ti ho visto molto emozionato We'll always love you Su Radio Kiss Kiss con Irama Ospite di Fuori Tutto Eccoci Bella questa canzone Una bomba Sei molto dolce Questo lo devo dire Io ce l'ho qua di fronte a me Per l'invidia Di tante ragazze che ti seguono Di tante ragazze che ovviamente Diciamo sono Tue fan Sei consapevole del tuo sex appeal? Lo dicevo prima Dovrebbero vedermi la mattina No ragazzi vi assicuro È mattina, è domenica Non dorme non so da quanto tempo Ed è sempre un gran figo Non ti sto corteggiando Non sia mai No, però Con chi vivi? Da solo Da solo, da solo Da molto tempo? No, non tantissimo Perché in verità Vivevo negli hotel Ormai da due anni Continuamente Hotel, hotel, hotel Dopo poi stavo impazzendo Perché stavo cercando Nel frattempo casa Ma non riuscivo mai A andare a firmare Andare a trovare la casa giusta E non avevi forse neanche Posso dirlo? Tutti i soldi per comprare O che ne so Andare a vivere da solo Allora Ti dico Soldi Ma i soldi Nel senso sono una cosa Poi relativa Nel senso nel nostro lavoro Comunque i soldi Sono una cosa che fa comodo Non bisogna essere malati I soldi Perché ti rovini la vita Ed è sbagliato Però fa comodo Nel senso comunque Guadagnare qualcosina Però ho iniziato Nel senso a firmare I primi contratti Nel senso riscografici Quando ero più piccolino Quindi ho trovato La mia indipendenza Diciamo presto Anche abbastanza presto Abbastanza presto Poi chiaramente Con l'evoluzione delle cose Più fai Più hai la possibilità Di fare Più hai la possibilità Anche di guadagnare Chiaramente Però Tralasciando questo aspetto Che non è interessante Comunque diciamo che Tendo a vivere negli hotel Da tantissimo E quindi mi ero Stufato Perché è una vita Bella da una parte E dall'altra parte Ti senti un nomade E io Con la valigia Sempre nel van Valigia sempre nel van Tu oltre ad essere nomade Ti senti anche parecchio Una rock star È vero? Perdonami papà C'è una canzone Nel disco nuovo Giovani Che si chiama rock star Che racconta un po' Di tre generazioni Due tre A confronto Sicuramente Diciamo che ho avuto Sto avendo tanto Una vita molto Molta al limite Spesso Però penso che Questo limite Serva anche per cogliere Magari degli aspetti Da scrivere Per cogliere canzoni Per A volte tendiamo a enfatizzare A vivere Un eccesso Anche per raccontarla Al massimo Perché lo conosci bene Certo Chiaramente Le rock star Erano le rock star Era un po' È un po' Una metafora Non c'hai tanto La faccia da rock star Devo dire La faccia pulita Beh ma anche Anche Brian Adams Aveva la faccia pulita Anche tanti altri È vero Allora sei pronto Per il nostro stress test? Sono pronto Sei prontissimo? Sono pronto Tu sei uno che Sudi quando vai In agitazione In sbattimento? No È vero che abbiamo Un faro pazzesco qui Sì c'è caldo Fa poco caldo Io c'ho una pelliccia È vero Allora io Mentre scrivo il disco Mi succede spesso Di piangere Sembrano psicopatico Mentre scrivo Piango Rido No sei semplicemente vero Fa tutto in dieci secondi Tendo molto a Esternare tanto Tanto in quei momenti lì Sei più bello O più bravo? Beh dai più bravo Ci sono persone Molto 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 Più belle di me Non più brave No scendi Ci sono persone Anche molto più brave Però dai più bravo Sì Poi tra Vent'anni dirai No sono più bello Perché conviene Ok Se potessi svegliarti Domani mattina Con una nuova dote No? Quale sceglieresti? Cosa ti piacerebbe Saper fare? Beh Leggere nella mente Sarebbe bello Cosa? Leggere nella mente Il superpotere Io l'ho interpretata così Bambinesca Sì sì bella Dai leggere nella mente Ti faresti anche un sacco di Una nuova dote Se no una dote seria Suonare tutti gli strumenti Quell'istrumentista Sì sì Certo leggere nella mente È pericoloso Potresti farti anche Parecchi nemici Su cosa non ti va Proprio di scherzare Cioè una cosa Sulla quale Proprio zero Non si scherza Beh sulle discriminazioni Con le robe lì Non è carino Non si scherza Sì tipo le battute Tipo le barzellette Sugli ebrei Non mi fanno ridere Quelle cose lì Sì va bene Basta Chiaro Riesci ad essere amico Delle donne Oppure inevitabilmente Finisci col provarci Allora Bella questa Sincerità Allora Riesci ad essere Amico delle donne Però Riesci ad essere Amico delle donne Però succede spesso Che finisci Che non sei più amico Eh allora Tutto chiarissimo La verità Superato lo stress test Dai è stato abbastanza Sincero Poco diplomatico Noi torniamo a troppo pochissimo Qui su Radio Kiss Kiss Fuori tutto Irama Chomandes con Lost in Japan Su Radio Kiss Kiss Nella mattinata di Fuori tutto Con Irama Eccoci Allora Un po' di progetti futuri Qualcosa che non hai ancora Rivelato a nessuno E che vuoi rivelare Qui ai microfoni Di Radio Kiss Kiss Allora Allora Una cosa che mi piacerebbe molto Ecco in mente Però non posso dire altro E uscire anche dall'Italia Ah ok È una cosa importante Molto importante Ovviamente una cosa Vedremo Piano piano Presto Vedremo Vedremo presto Penso sì Ok Poi sei con il tour Via il tour No? Tour Cioè il tour dal 28 Torino Fino al 5 aprile Al forum E siamo belli pieni Bello soldato Sarà una figata Perché poi il forum Sono andato a aprire Laura Posini Sì lo so E lei ha annunciato Che avrei fatto E quindi quando ho fatto Solo l'apertura È stato incredibile Quindi immagino il mio concerto Bello pieno sarà Qualcosa veramente D'emozionante Anzi se passate di lì Venite a trovarmi Assolutamente sì Ci saremo Maria De Filippi La senti? Sì Come una Una persona a cui voglio bene Tipo ciao come sei Tutto bene Così Ti ha fatto l'in bocca al lupo Prima di Sanremo Sì proprio così Esatto In bocca al lupo Ragazzi Ti voglio bene Poi lei è una persona Molto diretta Direttissima È proprio schietta Lei ti apprezza Se sei sincero Ma anche io Apprezzo le persone sincere Ti dico la verità E lei proprio Un treno E noi ti abbiamo apprezzato Questa mattina Proprio per questo Il tempo a nostra disposizione Purtroppo è scaduto Perché io Ti avrei tenuto qua Ancora un po' Avrei avuto ancora Un sacco di domande Mi divertivo anch'io Da farti Grazie mille Airama Grazie Filippo Grazie a voi Abbiamo conosciuto Un po' di più Anche l'altra parte Di te Al di là del personaggio Del grande artista che sei Chi schizza tutti